Un fotografo è letteralmente qualcuno che disegna con la luce. Un uomo che descrive e ridisegna il mondo con luci e ombre. Quando sono arrivato sul ciglio di questo immenso buco, mi si è aperta davanti in una frazione di secondo la storia dell'umanità, la storia della costruzione delle piramidi, la torre di Bapele, le miniere di Re Salomone. Non immaginavo che stavo per scoprire molto più di un semplice fotografo. Una cosa l'avevo già capita di questo Sebastiao Salgado. Gli importava davvero della gente. Dopotutto la gente è il sale della terra. Siamo animali molto feroci. Siamo animali terribili, noi umani. La nostra è una storia di guerre. È una storia senza fine. Una storia foglia. La nostra è un'amorata. La nostra è un'amorata. La nostra è una storia. Grazie a tutti.